Dopo la morte di Antonino Gulisano, l'uomo di 47 anni colpito la scorsa settimana da un infarto e deceduto dopo aver atteso tre ore al pronto soccorso di AC Reale nel Catanese, l'inchiesta della procura si allarga e interviene anche il presidente della regione, Rosario Crocetta. Diverse le criticità evidenziate dal governatore durante l'incontro con il direttore sanitario dell'ASP di Catania, il dottor Franco Luca, che hanno riguardato in particolar modo i cittadini dell'area di Giarra impossibilitati nell'immediato raggiungimento del presidio ospedaliero dalla difficoltà dei collegamenti, dalla distanza e dalla mancanza dei servizi territoriali. Insieme all'assessore alla salute Baldo Gucciardi, Crocetta organizzerà la prossima settimana un vertice a Palermo per elaborare un piano ragionevole di riapertura dell'ospedale di Giarra e conseguentemente del pronto soccorso, con l'obiettivo di rivedere il piano sanitario in scadenza il 31 dicembre 2016. Credo si possa ottimizzare la rete senza nuocere ad altre strutture ospedaliere, ha sottolineato il presidente. Nessuno attribuisca la volontà di chiudere Giarra e al mio governo, che invece sta affrontando il tema della riapertura.